Il voto a favore del regolamento urbanistico targato del Ghingaro, approvato la scorsa settimana, non è una prova d'intesa politica con il sindaco. Lo aveva detto subito il capogruppo di Forza Italia, Alessandro Santini, in Consiglio Comunale, prima di votare il testo, insieme al Partito Democratico e alla maggioranza del Ghingareana. A ribadire la linea del partito adesso è Atos Pastecchi, portavoce per Viereggio e Camaiore. Noi abbiamo avuto un incontro col sindaco, secondo me un bel incontro, un incontro intelligente, che il sindaco ha chiesto a Forza Italia un ampio voto per il regolamento urbanistico. Il nostro ex assessore Bucciarelli ha in tutte le maniere assistito, che è stato il promotore, perché è stato anche quello che conosceva il regolamento urbanistico meglio di tutti perché l'aveva fatto, è venuto, ha proposto delle cose al sindaco, insieme al nostro capogruppo Santini, e a questo punto qui abbiamo votato il regolamento urbanistico e voteremo tutte quelle cose che il sindaco ci proporà che facciano del bene alla città. Vedi il bel vedere la terrazza della Repubblica, vediamo il piazza Cavour, che è un porto importante, dove ci sono anche lì dei commercianti che soffrono, l'asse di penetrazione, il porto, quelle cose che fanno bene a Viareggio, perché dobbiamo dire di no perché l'ha detto un altro, ma ci mancherebbe. Certamente noi rimaniamo all'opposizione perché la nostra città ha ritenuto che noi siamo all'opposizione, rimaniamo all'opposizione e voteremo mano a mano che le cose saranno fatte.